Con l'incendio della Lea c'erano problemi con gli impianti antincendio, c'è una relazione di vigili del fuoco che dice che non era una norma, loro poi dissero che si sono messi a posto e poi sono sequestrata. Allo stir come erano gli impianti antincendio? C'era un impianto antincendio? Perché non è scattato? Lì c'era il comandante dei vigili del fuoco che ho incontrato stamane e che sta facendo tutti gli accertamenti, chiaramente lui ha detto datemi il tempo di scrivere la relazione, per cui non le so dire con esattezza. Ho percepito una cosa, che nel capannone, che è diverso dallo stir, perché poi lo stir è fatto di capannone oltre che di piazza, nel capannone certamente un abbattimento dei fumi e un sistema di abbattimento delle fiamme non c'era. Questo lo abbiamo visto, d'altro canto è ragionevole, si è uscito il fuoco e c'è stato il fuoco dell'uno nell'altro, è banale. Però aspettiamo la relazione tecnica del vigili del fuoco che penso in 24 ore verrà depositata, peraltro alla Procura della Repubblica.